ciao ragazzi ed eccoci qui al nuovo video targato iphone italia non è una video recensione oggi vi andiamo a mostrare molto molto velocemente perché non è apprezzabile appieno in un video ma comunque possiamo averne un'idea del galaxy note lo vedete già sullo schermo ovviamente e abbiamo avuto modo di testarlo per una settimana e le nostre considerazioni sono riportate nell'articolo ovviamente comunque un buon telefono palmare non esatto non è ben chiaro come definirlo perché è più grande ovviamente di uno smartphone più piccolo di un tablet quindi unisce le caratteristiche di entrambe anche se nato mio sinceramente parlare al telefono con il note senza un auricolare non è della cosa più comoda così come per me che sono abituato a scrivere con una mano quindi utilizzare soltanto un pollice ad esempio il note risulta più complesso perché comunque non riesco a coprire tutta la superficie ma ciò non toglie che quando si naviga su web è bello avere uno schermo comunque più grande rispetto ad un iphone e più maneggevole rispetto ad esempio un ipad quindi bisogna valutare ovviamente il contesto in cui viene utilizzato ma a parte adesso semplice confronto fisico tra tra le due andiamo a a vederli quindi come vedete vedere messo uno sopra l'altro già si nota comunque la differenza di quanto sia più grande è ovviamente più o meno delle stesse dimensioni a livello di di spessore peso siamo praticamente uguali anche perché il samsung è più o meno come dire è plastica rispetto all'iphone mi spiace dirlo ma comunque la parte posteriore è la classica plastica fotocamera fotocamera mi ha deluso non meglio ha le stessi pregi barra difetti mettete come preferite per me sono difetti per altri possono essere pregi del galaxy s2 che abbiamo già visto quindi colori molto più saturi ma non solo usate non sono quello che noi andiamo a vedere e anche durante il video anch'esso mostrato su questo articolo sull'articolo i contrasti quello che è la visualizzazione quindi quello che noi vediamo rispetto a quello che viene ripreso dalla fotocamera l'iphone 4 anche se non ha i colori saturi quanto il samsung sicuramente sono più più reali ma passiamo a vedere a questo punto un attimino l'utilizzo del del galaxy anche se ovviamente il galaxy scusate il tab note ha lo stesso sistema operativo del galaxy s2 quindi comunque abbiamo sempre android quindi alla fin fine abbiamo le stesse stesso modo di utilizzo avete visto speed test aperto perché perché il chip di navigazione dei dati è sicuramente più potente rispetto al nostro iphone 4s quindi quando siamo in velocità h plus allora potremo sfruttare appieno un nuovo chip come lo è per per capirci per le nuove ipad quindi sicuramente più potente se invece siamo sulle vecchie reti la velocità è più o meno la stessa anzi leggermente veloce l'iphone 4 quindi andiamo a fare velocemente appunto questo test per mostrarvi in diretta qui adesso siamo su 3g prima eravamo su h plus ecco di nuovo h plus come potete vedere già il test prima mi dava 9 mega comunque lanciamo il test adesso mi sta dando 3g quindi aspettiamo e vediamo quello che combina come potete vedere la velocità va viaggia siamo 10 mega quindi abbiamo raggiunto una punta di 10 9 e 30 quindi quasi 11 mega ve l'ho detto il chip dati è sicuramente più veloce del del nostro iphone 4s ovviamente ma è più nuovo anche il diciamo così il galaxy andiamo quindi a fare così per scopero il test della velocità anche sul nostro iphone ma per ovvi motivi sarà sicuramente più veloce probabilmente con il nuovo iphone monterà lo stesso chip che monta la il nuovo ipad quindi cambia ecco qui come non so se se si nota stiamo parlando di una velocità dell'iphone 4 di 6 mega e 70 e 4 mega 83 in in upload più veloce in upload che parliamo se ricordo bene di andiamo a riprenderlo velocemente nei nei risultati eccolo qua ecco stiamo parlando di un mega e 2 in app e 10 mega e 90 per quello che riguarda il note mentre nel test di iphone abbiamo 6 mega e 70 in download quindi paghiamo circa 4 mega e 2 in download però andiamo molto più veloci in app perché siamo 483 contro 1 mega e 2 ve l'avevo detto il chip è più nuovo più veloce quindi comunque il nostro iphone paga da questo da questo punto di vista come avete potete vedere lo schermo è quello che è perché a me non piace particolarmente perché il pollice come potete vedere non riesce a coprire completamente e con con la mano appunto una mano rischiamo di aprire applicazioni inutilmente come è successo adesso a me ed è questo che poi dopo a me come dire con una mano risulta difficile invece è ovvio che se andassimo a navigare con due mani su questo non abbiamo nessun tipo di problema ma questo è ovvio come deve vedere adesso stiamo velocemente navigando e la velocità c'è non siamo in wifi siamo in 3g quindi come potete vedere anche uno scorrimento delle pagine è molto molto fluido c'è c'è da ammettere anche il rendering viene veramente fatto bene rispetto guardate veramente in questo caso è fatto devo ammetterlo a me piace iphone via c'è pad quello che volete ma il note comunque a livello di di fruibilità da questo punto di vista è sicuramente ottimo prodotto e anche la velocità e la fruibilità con cui viene fatto lo slide in alto verso il basso del del note è molto meglio rispetto al galaxy s2 abbiamo già visto precedentemente la dimensione è quella che a me non piace a me non piace utilizzare sempre due 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 mani ma comunque come dire poi dopo ognuno ha le proprie abitudini e oltre come potete vedere nella parte posteriore abbiamo con la possibilità di utilizzare il pennino in quanto sia effettivamente comodo questo non sta a me giudicarlo è una questione come sempre di di abitudine quindi andiamo a tirar fuori velocemente il il pennino eccolo qui come dicevo c'è il suo bel pennino come sempre ogni minima cosa attenzione perché si è un pennino non è un pennino capacitativo quindi comunque dobbiamo andare a premere non è non siamo come dire non è il classico pennino a cui siamo abituati con gli ephone comunque che basta fare un semplice tap ma bisogna comunque come potete vedere premere leggermente di più per poter come dire utilizzarle comunque non non in questa maniera perché si rischia di appoggiare la mano come mi è già accaduto quindi ad esempio mano sempre alzata e poi andiamo a provare perché se nelle grandi applicazioni nelle pagine dove c'è una tante applicazioni andiamo ad appoggiare il palmo della mano l'applicazione si si avrà come dicevo lo schermo merita perché comunque merita a livello di dimensione delle icone di posizionamenti perché comunque abbiamo più superficie però ha anche la di negativa appunto che parlare al telefono diventa scomodo si rischia di intruppare appunto con con la mano con le altre applicazioni comunque con una mano non copriamo tutta la superficie ma ripeto è una questione poi di abitudine detto questo non mi resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi